Da più di un anno curano la pulizia delle strade, dei torrenti e delle rotatorie di la Mezzia Terme. Sono impegnati ed impeccabili gli ospiti del centro di accoglienza malgrado tutto, ma secondo l'Unione Sindacale di Base ci sarebbero diverse ombre nel tipo di rapporto con cui prestano questi servizi per la città. Come spiega il coordinatore regionale USB Pubblico Impiego Calabria, Luciano Vasta. Questi ragazzi vengono utilizzati per lavorare per la comunità di la Mezzia Terme, per la nostra città, senza probabilmente avere un contratto di lavoro, noi non abbiamo mai avuto contezza di un contratto di lavoro, senza adeguate misure di sicurezza per la loro salvaguardia rispetto alle strumentazioni e alle strutture di ausilio. Di questo qui la città che ospita questo centro e che ospita questi ragazzi sembra assolutamente strana. Noi invece riteniamo che questi, assieme a tutti gli altri problemi, siano delle questioni che debbano essere centrali. Questi ragazzi, se devono lavorare per la comunità di la Mezzia Terme, devono lavorare nelle condizioni adeguate. Tiziana Bagnato per la CNews24 Tiziana Bagnat Conc금 Tiziana Bagnat Conc금 Tiziana Bagnat Conc금 Grazie a tutti.